Oggi è il 28 giugno, domani si celebrano i santi Pietro e Paolo, però stanotte ci sono delle importanti tradizioni legate alla cultura popolare che vanno rispettate. Si dice addirittura che la festa di San Piero e San Paolo sia più antica del Natale, perché a parte la devozione per la Madonna, San Piero e San Paolo sono i fondatori della Nuova Roma. Anticamente era la festa dedicata a Romolo e a Remo, fondatori della città romana, San Piero e San Paolo sono per la Chiesa i fondatori della Nuova Roma, quella cristiana. C'è una tradizione bellissima che alla Motella consumava tutti gli anni l'ina ostera, l'oste del paese, quella di fabbricare la notte prima, la sera prima, la barca di San Pietro. Com'era la storia? Si usava l'albume, si prendeva di solito quei bottiglioni da osteria da un litro e mezzo, veniva riempito di acqua, si versava dentro l'albume alla sera, poi andava chiuso, tappato bene, andava messo, steso in mezzo all'orto. In mezzo al radicchio e lì ovviamente doveva prendere anche la rugiada, perché era importante la rugiada. La rugiada che costruiva dentro l'albume si formavano le vele della barca di San Pietro. Perché la barca? Perché San Pietro, essendo pescatore, abitualmente aveva usato la barca per svolgere la sua attività. Se la barca con le sue vele si era formata bene, voleva dire che c'era stata la rugiada e se c'era stata la rugiada voleva dire che il tempo era stato sereno, non c'erano stati temporali e quindi la barca ben formata con la rugiada inneggiava ancora al futuro, cioè alla fertilità legato ai coltivi e alla coltivazione prossima a venire per il mondo agricolo, agrario. Se per San Pietro pioerà, per me il bruttempo farà.